buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno del toro andiamo a prendere la nostra carta angelica e intanto io vi ricordo che per avere una sessione privata con me o per diventare i miei studenti di qualsiasi cosa che sia la tarologia psico evolutiva che sia il la magia d'amore telepsichia che sia la psicologia carmica ed energetica vi basta o andare sul sito internet e iscrivervi direttamente da lì o prenotare la vostra sessione oppure inviate un email e chiedete alla mia assistente cosa fare oppure lei farà tutto per voi prendiamo quindi una carta guardiamo un po che cosa c'è e cominciamo energia di generale un 6 di bastoni rovesciato ragazzi mamma mia qua qualcuno ha bisogno di attenzioni chi è che ha bisogno di attenzioni o siete voi o l'altra persona perché il 6 di bastoni rovesciato è proprio il sentire che qualcuno non ci sta valorizzando abbastanza non ci sta dando abbastanza considerazione ci sentiamo o l'altro magari si sente un po svalutato perché perché non valorizziamo quello che abbiamo perché perché l'essere umano è fatto così è proprio una cosa naturale dell'essere umano cioè noi siamo abituati a valorizzare gli altri solo in certi momenti o magari all'inizio delle relazioni durante la fase dell'innamoramento poi iniziano i problemini inizia iniziamo a vedere come realmente è l'altra persona escono fuori difetti ed ecco che la magia finisce e se non siete in coppia in questo momento il problema probabilmente è che o uno o voi non valorizzate lui lei o lei lui non valorizza voi inoltre sembra che sia un periodo un po spento nel senso in cui tutto va a rallentatore nel senso in cui c'è la sensazione che comunque questa situazione potrebbe non essere esattamente quella giusta per noi uno dei due perlomeno lo sta pensando uno dei due ma vediamo adesso le singole colonne in una colonna avete voi stessi nell'altra colonna avete o il vostro partner o la persona con cui avete a che fare quale delle due colonne la vostra e quale invece parla dell'altro lo capirete man mano che leggerò quello che vi dico però tanto per iniziare è che c'è il lo zampino del karma lo zampino del karma perché non so se state notando lo dico soprattutto ai miei studenti qui abbiamo una ruota della fortuna e un 6 di coppe rovesciato cioè la carta delle anime gemelle e la carta del karma in azione delle sfide karmiche in azione tra l'altro abbiamo anche delle carte molto potenti perché abbiamo vari arcani maggiori quindi guardate 1 2 3 arcani maggiori più varie carte di corte 1 2 3 4 carte di corte e il 6 di coppe che è molto forte come energia ma anche l'asso e il 4 di bastoni sono abbastanza forti come energia insomma abbiamo una un'intensa energia questo mese per il toro molto intensa interessante perché quando ci sono queste energie così intense di solito esce sempre qualcosa di interessante fuori poi a livello relazionale a livello anche di fatti proprio cose situazioni che ci accadono chi si trova nella colonna di sinistra si sente come il mago prova l'imperatore rovesciato vorrebbe il fante di spade agisce come il cavaliere di denari e ciò che non dice il 6 di spade ok bruttina questa perché perché chi si vede chi si trova su questa colonna si sente abbastanza forte in questo momento da prendere delle decisioni sì però purtroppo sembra che ha bisogno di novità ha bisogno di stimoli ha bisogno di qualcosa di nuovo troppa monotonia troppa noia troppa routine sempre uguale non va bene non va bene non c'è un interesse non c'è uno stimolo non c'è un input che porta queste due persone a sentirsi realizzate davvero e quindi ecco che questa persona sta sentendo il bisogno di novità e con il fante di spade aspetta solo il momento giusto per parlarne aspetta solo il momento giusto per dire per fare una determinata conversazione per esprimersi per dire determinate cose perché nella posizione dei segreti c'è il 6 di spade c'è il desiderio di andar via c'è il desiderio di andare oltre si può andar via insieme ragazzi non necessariamente un andar via vuol dire lasciamoci o ognuno per la sua strada si può andar via insieme si può evolvere insieme si possono fare dei progressi e dei passi avanti insieme ma bisogna farli perché altrimenti questa persona s'annoia si appalla davanti alla televisione a fare zapping cioè il problema è proprio questo sembra che non ci siano degli stimoli e questa invece a me sembra una persona che ha bisogno di stimoli però la cosa bella è la stabilità la grande presenza di questa persona con il cavaliere di denari è vero che hai in testa il lo scappare è proprio una fuga però nello stesso tempo è molto presente è molto seria nel comportamento fa progetti per il futuro sempre però tenendo i piedi per terra quindi in modo molto concreto molto razionale e la cosa buona la cosa positiva è che comunque si sente in grado di manipolare la sua realtà in modo positivo e propositivo quindi comunque va bene si sente padrone del proprio destino questa persona dall'altra parte abbiamo qualcuno che si sente come un re di bastoni rovesciato prova un asso di bastoni vorrebbe un 6 di coppe rovesciato agisce come un 4 di bastoni rovesciato e ciò che non dice è la ruota della fortuna questa persona si sente stanca si sente stanca e un po' un po' scoraggiata ma ma sa benissimo che cosa sta accadendo alla coppia o alla situazione sa benissimo che c'è bisogno di una mossa c'è bisogno per tutti e due di una bella pedata nel sedere per poter dare uno stimolo ed ecco che vuole l'asso di bastoni quindi un grande desiderio di agire di passare all'azione e di farlo in modo efficace concreto produttivo per proprio per dare fuoco elemento fuoco qui stiamo parlando di dare un'energia che può dar vita a qualsiasi cosa c'è l'intenzione c'è ed è comunque una persona anche che si rende conto che questo momento davvero è semplicemente un po' una sfida una sfida da superare che può essere superata in modo molto positivo se se si guardano le cose da un punto di vista del costruire se invece si inizia a fare le vittime e si inizia a dare la colpa al resto del mondo agli altri ecco che non si va da nessuna parte quindi comunque questa è una persona che ha preso consapevolezza di ciò che sta vivendo e che in effetti ha tutti gli strumenti mentali per risolverla perché è molto intelligente sta agendo in modo molto intelligente capisce benissimo che è arrivato il momento di fare qualcosa lo vuole fare questo qualcosa e sa che magari non sarà semplicissimo sa che ci sono come sempre delle piccole sfide da superare ma è pronta a farlo non ha paura non non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro e sa che l'eventuale realizzazione di una coppia felice è solamente un qualcosa che magari avrà bisogno di un po di tempo per realizzarsi al cento per cento ma comunque succederà c'è ci sarà la piena realizzazione prima o poi questa è una persona che riconosce l'importanza del legame riconosce magari anche il karma che sta agendo quindi riconosce se ha per esempio una preparazione in questi temi su questi argomenti potrebbe essere rendersi benissimo conto che si tratta di qualcosa di karmico che sta agendo qualcosa di qualcosa di già programmato prima ancora di nascere con questa persona che è in moto proprio per insegnare ai due a stare al mondo per insegnare ad amare per insegnare a vivere tutte dinamiche ragazzi se avete dei dubbi sulle dinamiche che agiscono a livello karmico in una coppia è tutto spiegato nel video corso di psicologia karmica ed energetica lì veramente rispondo praticamente a tutte le domande che potete avere sul karma sulle anime gemelle fiamme gemelle questo genere di cose ora passiamo alle coppie ecco se stiamo parlando di una coppia stiamo parlando di una coppia che proprio nel momento in cui si spegne la situazione si spegne e diventa monotona e diventa un po noiosa tutti e due si rendono conto che c'è qualcosa da fare ed è molto bello perché la presa di consapevolezza da parte di tutti e due può davvero dare uno stimolo nuovo alla relazione può salvare una relazione anche quelle più a rischio possono essere salvate da una cosa del genere infatti c'è uno dei due che ha già le mani nei suoi attrezzi il mago uno dei due che ha le mani nei suoi attrezzi e che è pronto proprio a creare una nuova realtà ed è pronto a parlare non vede l'ora di trovare l'occasione per comunicare i suoi bisogni all'altro l'altro che si è reso conto che c'è questa necessità ed è proprio pronto ad agire ad una grandissima voglia di agire per sistemare le cose rendendosi conto che nella vita non ci sono solo gioie ma è un'oscillazione fra gioie e difficoltà ed ecco che vedo davvero una condizione ottimale per crescere insieme per quanto riguarda i single qui si tratta di una persona che desidera fortemente l'altra c'è una forte attrazione fisica da parte di uno dei due una forte attrazione fisica ma allo stesso tempo una incapacità di avvicinarsi all'altro una sorta di insicurezza la persona che la persona che si sente molto attratta fisicamente dall'altro potrebbe proprio essere quella che riconosce che esiste un legame di tipo karmico o se non lo sa perché magari non tutti sappiamo che cosa sono queste cose però comunque si tratta di una persona che il legame lo sente lo sente il legame karmico mentre invece l'altro non tantissimo sembra quasi non accorgersene in certi momenti o se se ne accorge lo dà per scontato però ecco chi sta da questo lato prova una forte attrazione riconosce l'importanza del legame riconosce di aver incontrato un'anima con cui è importante condividere e stare insieme purtroppo si sente scoraggiato non si sente valorizzato non si sente riconosciuto dall'altro per quello che realmente è dall'altra parte abbiamo qualcuno che invece ha bisogno di qualcosa di più che magari c'è nella sua presenza magari è un amico magari è una persona che si si mostra come amico si pone come amico però realmente realmente desidera altro non riconosce non riconosce nell'altra persona qualcuno con cui iniziare una relazione è qualcuno che si annoia facilmente magari è qualcuno che ha delle esigenze particolari o pensa di avere delle esigenze particolari molto selettivo nell'ambito delle relazioni sa che l'altro ha un debole lo sa è chiarissimo però sta aspettando l'occasione giusta per dirgli che no che non è interessato che che vuole andare avanti che si tratta solamente di amicizia magari e che non si sente fatto per stare insieme non si sente assolutamente interessato a questo tipo di relazione ora vediamo un po che cosa accade nella combinazione con i 12 segni dello zodiaco quindi vediamo un po soprattutto per chi sta interagendo con diverse persone questa parte potrebbe proprio essere molto utile intanto io ragazzi vi ricordo che per iscrivervi ai miei corsi potete andare sul sito internet oppure inviare un'email e se volete se volete iscrivervi usando un sistema di rateizzazione passate per l'email perché così Angela vi darà le varie opzioni per rateizzare in modo che sia comodo per tutti per il resto se volete prendere per esempio iscrivervi a più corsi contemporaneamente anche lì potete chiedere uno sconto speciale oltre alla rateizzazione è ovvio che se vi iscrivete a più corsi e quindi fate un iniziate a fare un percorso più completo il prezzo scende notevolmente quindi sentitevi sentitevi liberi di chiedere tutte le informazioni che volete ad Angela e adesso vediamo un po che cosa accade quindi cominciamo ora no 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 le carte mi hanno detto non fermarti a mescolare non ancora non ancora non ancora non ancora ora ok allora vediamo i toro che interagiscono con una riete ci si tratta di un interesse superficiale per il momento toro con toro non sembra nel vostro destino toro con gemelli sta il gemelli sta prendendo tempo ma si farà sentire con cancro beh si sta avvicinando un momento abbastanza importante con leone la relazione è possibile ma ci vuole del tempo con vergine uno dei due ha perso la fiducia nell'altro con bilancia dovete stare attenti e cogliere l'occasione quando si presenta con lo scorpione non è ancora arrivato il momento di agire il sagittario vorrebbe qualcosa di più il capricorno potrebbe tornare indietro chiedendo scusa però state attenti perché non mi sembra realmente dispiaciuto sembra solo un modo per riavvicinarsi l'acquario sta male per voi e non sa cosa fare e il pesci cerca di uscirne per trovare di meglio o per essere più felice da un'altra parte e adesso andiamo a vedere il nostro consiglio degli angeli l'oracolo angelico e abbiamo un due di fuoco ok due di fuoco dunque siete entrati in contatto con voi stessi ed è una cosa sempre buona entrare in contatto con noi stessi questo è uno dei motivi per cui noi veniamo al mondo imparare chi siamo per poi poterlo manifestare e per 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 poterci manifestare appunto dobbiamo vederci dobbiamo capire cosa davvero siamo potrebbero in questo mese iniziare delle nuove collaborazioni magari anche a livello professionale oppure potremmo fare dei progetti che coinvolgono altre persone e e comunque sembra che ci saranno degli esiti molto positivi per qualunque progetto comincerà adesso o magari sta per iniziare o è appena iniziato sembra un momento buono per i progetti di qualsiasi tipo anche perché sembra appunto che ci stiamo anche chiarendo le idee su quello che davvero desideriamo e quindi possiamo appunto andare verso ciò che vogliamo piuttosto che girare intorno a casaccio per il meno peggio per il resto ragazzi per avere una sezione con me inviate una email o andate sul sito e ci vediamo alla prossima